Raccolta differenziata da bruciare nell'inceneritore di Brescia sarebbe tra le richieste dell'AIA per il 2014 di A2A. Non soltanto per ogni tonnellata di rifiuti differenziati che non finiscono all'inceneritore, A2A importerebbe le tonnellate mancanti da fuori provincia per continuare a bruciare la medesima quantità di rifiuti. Perché allora continuare a differenziare? Se lo domandano i comitati ambientalisti che hanno inscenato una singolare protesta, quella dello sciopero della raccolta differenziata. Vogliamo sfatare il mito che si faccia la raccolta differenziata quando, se verrà fatta la raccolta differenziata, purtroppo al nostro inceneritore verranno importati i rifiuti perché deve bruciare. E a quel punto è qui che diciamo che è la farsa, perché se si differenzia va meno all'inceneritore, però l'inceneritore deve bruciare e se la matematica non è un'opinione i conti non tornano. Quindi a questo punto noi saremo fermi proprio innanzitutto sulla chiusura della terza linea. E proprio per questo giovedì 19 alle ore 14 saremo in performance sotto la loggia, in occasione del Consiglio Comunale, per chiedere direttamente agli amministratori e spiegare le nostre ragioni. Dietro alla decisione di A2A di bruciare comunque più rifiuti di quelli prodotti dalla città, ci sarebbero come sempre ragioni economiche quantificabili in poco più di 1,3 milioni di euro. I comitati sono pronti a manifestare anche sotto la loggia in vista di un incontro con l'assessore regionale Terzi. Questa è stata una provocazione voluta, però ovviamente i cittadini così fanno, perché conosco proprio persone, c'è il cassonetto grigio, nel cassonetto grigio se qualche amministratore volesse venire quando c'è la raccolta di un cassonetto grigio e tirar fuori quello che c'è dentro troveremo di tutto e di più. Quindi a questo punto veramente basta, i cittadini sono stanchi di essere presi per il naso, vogliamo delle risposte precise e corrette. Il cittadino basta, vogliamo la correttezza.